Ciao a tutti, andiamo avanti con le tecniche sulla cervicale. In questo video faremo delle tecniche su un trapezio alla volta, quindi sono delle tecniche fatte con il collo girato. Massima attenzione nel girare la testa della cliente, dovete adagiare la sua testa bene sulla vostra mano e dovete fare in modo di averla in sicurezza. In questa maniera, con la mano libera, andrò a fare i movimenti che vi ho già fatto vedere, quindi degli sfioramenti profondi, degli scivolamenti dal trapezio verso il collo, più pressione all'inizio, come sempre, e meno verso la fine del movimento, ma anche dei cerchietti, quindi i movimenti che vi ho fatto vedere sui precedenti video. Stessa cosa ovviamente facendo un cambio di presa e andando a lavorare l'altra parte, e quindi in questo caso sempre massima attenzione, delicatezza, giriamo la testa della nostra cliente e con la nostra mano libera andiamo a fare la stessa cosa sull'altro lato, quindi pressioni, scivolamenti, osferamenti profondi, come volete voi, dal trapezio, dalla spalla verso il collo, oppure anche semplici cerchietti. Poi, quando avete finito questi movimenti, sempre delicatamente riportate la testa della nostra cliente in posizione base e poi andremo avanti con la prossima tecnica nel prossimo video. A presto e ciao!